Chi vorrà da Favignana potrà ammirare la nave scuola della Marina Militar Italiana Amerigo Vespucci alla Fonda, a largo di Punta Longa. La più bella nave del mondo, come è stata definita dalle marine militari delle altre nazioni, non ormeggerà nel porto di Trapani. Nave Vespucci si fermerà nel mare di Favignana oggi e domani. Per questa ragione la Capitaneria di Porto di Trapani ha emesso una ordinanza che vieta ogni attività in mare attorno alla Vespucci. Fino alle 22 di domani nello specchio acqueo centrato nel punto di coordinate in cui si trova la nave e per un raggio di 100 metri sono vietati la sosta e l'ancoraggio di navi innatanti di qualsiasi genere, la pesca sia professionale che sportiva o ricreativa con qualunque mezzo esercitata, qualsiasi tipo di attività di nuoto o subacquea, ogni altra attività che possa interferire con la sosta alla Fonda della nave militare Amerigo Vespucci. Gli appassionati dunque dovranno munirsi di teleobiettivo fotografico se vorranno immortalare la nave scuola in crociera nel Mediterraneo con a bordo i cadetti dell'Accademia di Livorno e della scuola sotto ufficiali della Marina. Quest'anno, a causa della emergenza coronavirus, la crociera di nave Vespucci non lascerà le acque nazionali.